Ciao, sono dottor Kette, benvenuti in questo nuovo video! Avete presente Aoni, il gioco 2D, uno di quelli famosi di giochi? Beh, è uscita la versione 3D del gioco, che è veramente creepy! Ho dovuto pure fare diversi indovinelli, tra cui leggere un orologio che non lo sapevo leggere, ed è successo veramente di tutto! Guardate il video fino alla fine per vedere se sono sopravvissuto o no! Beh, dunque questo vi lascio alla visione! Ciao! Allora, signori, io mi sto caccando sotto, perché... Come potrei dire? Nemmeno di suoni, questo potrei dire solo? E... facciamo start! O... ma che succede? Mi fai risuoggere tua sorella? Che avevo detto poi più avanti? Ok, non è simile al vero Aoni, però è una sorta di Aoni! Perché c'è il mostro di Aoni! Ok, c'è qualcosa? Ah, ok, tasti, allora... Wazd, puoi camminare! Wazd più shift, puoi correre! Ok, questo muovo visuale... Ok, vabbè, diciamo non è... serve tantissimo! Flashlight, if you have... Se ne hai bisogno o no? Ho detto, ho preso qualcosa, ok! No, no, ma vai in ritardo, non muovo la visuale! No, regà, no, regà, no, io ho paura! No, no, regà, mi mi danza in sti giochi! Però non ci siete voi, vero? Vero che state ancora vedendo il video? Vero? Ok, c'è qualcosa? Help me! 6478! 6478! Ok, ok, 6478! 64... Può essere qualcosa veramente importante! Molto importante! Soprattutto in questa casa, perché... Perché darei caso con questi piccoli, scusate? Ci metto una vita a girare la visuale! Oh, perché respira così? Ok! 6478! Ma no, devi premere così! 6478! 6478! Prego! Prego! Una chiave, eh! Ok! No, io ho paura! No, aspetta! Però c'è un'armadietta, scusa! Prendi la stava! Ah, ok! Ok, mi devo nascondere! Mi devo nascondere! Va bene, va bene, va bene! Va bene, va bene! Non è buono, però! Non è buono per me! Non è buono, perché io devo nascondere, mi significa! Ma io voglio che il mostro si nasconde da me! Ma non respirare così, per favore! Mi fa venire l'ansia! Mi fa venire l'ansia! La chiave, ecco! Mamma mia! Ok! Quanti giorni sono passati che sto qui? Ehm... Sono arrabbiato! Don't do the same! I can't wait! Non posso aspettare! Ehm... Voglio uscire da qui! Ok, vi dico questo, il maestro English! Vi consiglio usare un traduttore, se non lo sapete tradurlo! Perché io faccio solamente cacare! Ve lo dico facilmente! E' cambiato il posto! E' cambiato il posto! Rega! Qualcuno! C'è qualcuno! No! He's here behind down! In che senso? Giù significa! Mmm... No! Dove sta? Che devo fare? Oh no! No! Eccolo! Eccolo! Ok! E' andato in una stanza, ok! Devo cercare di andare in questa stanza, forse dove sta lui? Ma... Che succede? Mi ha visto? Mi ha visto! No, no! No, no! No, no! Ti prego! Ti prego! Ti prego! No, 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 no! No, 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 no! Ma... Ho potuto fare la musica? No! 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 no, 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 no. Io già sto sudando, perché già va caldo, devo stare col baccone chiuso, non posso giocare un horror così, no. Allora. Ok. Basta! No, no, no. No, 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 no. Qua, 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 qua. Diù dì, sono di buro細. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Riga, ma che. Ma è stranzioso. Ma che. Scusa, ok, finita la musica, premando uscire. No, no, non dimmi che stai... Ah qua. No. Non ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Oh mio Dio Oh mio Dio Ti prego Che si deve fare qua Scusa si aprono ste cassetti Ah così mi inclino Ok C'è un orologio senza le laccette va bene Non ho fatto rumore Piccolo Ti prego Ti prego Dove sta andando No non si fa lì è un problema adesso Ti vanni ti vanni ti vanni Vero 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 Ti vanni quelli laggiù Ti prego ti prego muoviti 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 Non mi vede vero Non mi vede vero Vero non mi vedi Ti prego Ok Oh mamma mia Oh mamma mia Ok Allora dobbiamo ragionare un attimo Ehm Cosa facciamo fare C'è Devo trovare qualcosa qui di sicuro Oh Sta per uscire Sta per uscire Sta per uscire Ok 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 No 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 Che ho fatto Ti prego Ok ok Vai 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 Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Vai 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 Da una cosa Quella era la stanza opposta Ho sbaglio No Perché veramente è qua sotto tutti aperti Cosa c'è qua? Niente Niente Ci deve stare qualcosa Non c'è niente però Che può significare sta cosa? No 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 Allora C'è scritto qualcosa Devo leggere Devo rischiare Make it all Merendi tutto uguale Capito Ok Allora Devo capire come fare allora Quindi Devo andare di là a capire Cosa si deve fare Aspetta Quindi Ritorniamo di là Quindi Ok signori Sono arrivato Quindi memorizziamoci le cose Uno Due Armaglio chiuso Aperto E basta Ok Quindi devo ritornare di là Ok torniamo di là Quindi ci siamo memorizzati il punto Ritorniamo di là Sperando che Dove sta? Ok sta lì giù Quindi ora ritorniamo nel punto di là Quindi memorizzatevi pure voi Così vediamo se Se sbaglio Mi scrivete nei commenti Se ho sbagliato Ok quindi Andiamo di là Andiamo di là Ok Ok signori Manca veramente così poco Lo se Sta Sta alla mia destra Sta alla mia destra Io 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 Mi impazzisco Mi impazzisco Ok 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 siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati Ok Quindi Mi ricordo che Qual era Questo Chiusi questi Questo aperto Questo Ha fatto rumore Che succede? Non ti prego L'ho sentito Lo sento correre Lo sento correre No Lega è qui Si fa con un orologio L'orologio Ha fissato Ok Ok C'entra qualcosa Questo orologio E ora che devo fare? Devo uscire da qua Ok Ok Vai Ok Ok ragazzi Devo uscire da qua Subito Il prima possibile Subito Quanto è brutto comunque Mamma mia Oh mamma mia Ok Sta andando Da qualche parte Io sto abbassato Vai 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 Ok Ok Prego Corri 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 Ok L'abbiamo seminato Cimi giro dietro Ok Una cassaforte Mi sono cacchio sotto Come una cassaforte Devo trovare un codice adesso? Oh no Allora Potrei fare una cosa pazza Corro e vedo il codice Potrei rischiare di fare così Secondo me No 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 M'ha visto Dove sta correndo lui? Qui Corri 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 Dai Dai Ti prego Ti prego Grazie No 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 Allora 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 Momento 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 Io ora esco Non esco più Possiamo parlare nei fratello Da Maglia viola A Uomo viola Come Guardi sempre Parapolica Scusate Cioè È tutto viola Ok È scappato Arrivano di là Non sto tornando Vero Ma che non sto Stando tornando Vero Qualcosa c'è Niente Scusa C'è qualcosa Che non va No Secondo me Devo controllare I cassetti Dopo Dovevo controllare I cassetti Quella zona Lì invece Ok Passiamo qua Vai 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 Ok Stiamo un po' Andando in giro Intondo Però È l'unico modo Che abbiamo Allora facciamo così Aspettiamo che lui Se ne va E poi Prova a andare lì dentro Vediamo Vai 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 Non mi ha ancora visto Mi ha ancora visto Mi ha ancora visto Ok Vediamo se c'è qualcosa Ci deve stare forza qualcosa qui Scusa Ha fatto rumore Non dirmi Non si può vedere che io risuono Scherzavo Non devo sapere i numeri romani Vero Oppure quelli sono i numeri romani Però No Cioè Come faccio a sapere il codice Impossibile allora Mi stai dicendo No Non dimmi qualcosa al centro Vediamo Aspè È vero C'era la torcia Aspetta Qual è il tasto della torcia ora Wait Non mi ricordo il tasto della torcia Vabbè 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 Senti Facciamo una cosa Usciamo da qua Andiamo a vedere Attimo il codice là Prova a mettere a caso Vediamo se indovino Vai 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 Che ha paura il mio personaggio Speriamo un po' così Ma come può essere Qual è Prova a mettere a caso Dai 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 Ti prego Ti prego Allora signori Ci ho provato E provato Ma sapete qual è la cosa Mi sa Adesso vi mostro Aspè Vediamo se riesco Aspè bro Facciamo parla Bro Facciamo parla Via 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 Vi stavo dicendo La roba È quel L'orologio lì Non so come mostrarlo Aspetta Devo correre Devo correre Vai 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 Oddio Vai Ti prego Ok Possiamo provare a fare una cosa Devo cercare sul telefono Come si legge l'orologio Perché io non so leggere l'orologio Senza neanche i numeri Allora Cerco sul telefono So come fare Ok Mi cerchiamo Orologio Vediamo se Google Mi mostra Quello con i numeri Con calma tu Allora Ok C'ho l'orologio Adesso Vi mostro pure Non voglio comprarlo Google Per favore Ho l'orologio Non si riesce neanche a vedere Comunque Allora Devo uscire da qua Fare la foto A questo orologio Ok Ho fatto la foto Devo ora correre Vai 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 Corri 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 Ok Ok signori Ho fatto la foto Ora devo capire Come funziona Perché non so Lei si era un orologio Io purtroppo E quindi Allora Ora prepariamoci Ok No 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 Ti prego Ti prego No 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 Ma E' sta roba Ma Devo rifare tutto no